Dalla chiesa conventuale di Sant'Antonio con padre Mario Lauro, una celebrazione questa mattina con le più alte cariche dei carabinieri, carabinieri qui sull'isola per questa celebrazione, ma li abbiamo visti anche impegnati in prima linea durante la frana del 26 novembre. Sì, abbiamo vissuto un momento molto bello con i carabinieri di Ischia e di Procida per scambiarsi gli auguri di Natale e per l'occasione sono venuti anche dei generali da Napoli e il loro cappellano. Abbiamo vissuto questa eucarestia anche per ringraziare per tutto ciò che hanno fatto lì a Casamicciola durante la frana, quindi i lavori e il sostegno che hanno dato a tutti i casamicciolesi. È stato un bel momento di fraternità, di semplicità, una bella condivisione all'insegna della fraternità. L'abbiamo fatto come vedete in questa grotta che è stata allestita dai nostri ragazzi e ragazzi della comunità. Abbiamo voluto rappresentare anche la situazione che ha colpito purtroppo Casamicciola la frana, con quell'alcobaleno che si allunga fino al castello e ci sono 12 angeli che sarebbero le 12 vittime della frana che sicuramente vegliano sulla nostra isola e possano intercedere perché è così allontanato il pericolo di ogni calamità naturale e speriamo ognuno possa trovare la sua serenità e la sua sicurezza nella nostra bella isola verde. Per un uomo di chiesa immagino che tragedie del genere portino anche il contatto con tanto sconforto poi nell'animo di chi poi si appresta ai sacramenti. Sicuramente, ma con la fede non è che diamo la risposta, con la fede sosteniamo, anche perché come ha detto il cardinale, l'elemosiniere che sta domandato dal Santo Padre, non ci sono parole e quindi il silenzio e il rispetto del dolore altrui, le parole forse in questi casi non servono a niente. Il silenzio e la vicinanza e soprattutto la carità, lo stare vicino a queste persone. Credo che sia la testimonianza più bella e il modo per poter aiutare tutti quelli che hanno bisogno.